Io nella mia vita mi devo rifidare di una persona, vengo in un contesto come Uomini e Donne dove provo a rimettermi in gioco, mi trovo davanti un ragazzo che mi piace esteticamente, per sensibilità, per tutto, ci provo, poi quando vedo che lui non è esattamente quello che io vado cercando, ne ho paura e faccio un passo indietro, questo sto dicendo. Perfetto, questo vuol dire non è esattamente quello che sto cercando, vuol dire non posso correre nei prati spensierati a raccogliere margherite se quando mi giro lo vedo star dietro ad un'altra ragazza, perché so che non posso più raccogliere margherite, perché la mia vita al di là del fatto che ho 30 anni è fatta anche di responsabilità, quindi se perdo la testa e mi scotto, forse quando torno a casa non so esattamente come devo essere. Che c'è di tanto strano? È pesante o è responsabile? Secondo me è responsabile, l'esatto contrario della pesantezza. A me dispiace farti piangere, non volevo, però secondo me è essere responsabile, poi capisco Matteo perché dal punto di vista di un ragazzo, dice esco con una ragazza, voglio sentire leggerezza, no? Sicuramente. Ha un'età per cui è giusto che la voglia sentire anche. Grazie.